Si dice che un cristiano moderno non pensa quasi più all'inferno o vi pensa tanto poco che praticamente è come se non esistesse per lui. Ciononostante l'inferno è un domma di fede, non si può essere cristiano e rifiutante di credervi e non abbiamo il diritto di eliminare queste verità della rivelazione perché non ci fanno comodo. Basta aprire il vancelo per rendersi conto dell'esistenza, dell'insistenza di Gesù né parlare dell'inferno e delle conseguenze eterne nella nostra scelta. Per farci credere all'inferno sarebbe forse sufficiente cercare di conoscere con esattezza l'oggetto della nostra fede. Innanzitutto è bene chiarire Dio non ha creato l'inferno in cui esercitare la propria ventetta sui nemici e sul male. Per il pensiero filosofico cristiano è una privazione. Dio non ha creato il male. tutto quello che Dio ha creato è buono e l'inferno che è il colmo del male non è stato creato da Dio. Anzitutto dunque l'inferno non è un luogo, questo è bello precisare, non è un luogo di inferno, ma solo uno stato dell'anima. È un regno spirituale quanto il cielo e non è lo stato di un'anima che è fatta per Dio avendo bisogno di Dio come abbiamo bisogno dell'anima per respirare lo rifiuta e si uccida sfissiantosi. Ma ecco qui un altro errore che di solito si commette. Non è Dio che danna gli uomini, sono gli uomini che si dannano. Dio ama tutto ciò che ha creato. Dio ama perfino i dannati come creature. È il dannato stesso che si rifiuta l'amore di Dio e si punisce. Non facciamo di Dio un carnefice. Al contrario l'inferno è l'espressione del rispetto di Dio per la nostra libertà. Se Dio salvasse per forza tutti e imponesse a tutti la sua presenza, il cielo diventerebbe un campo di concentramento. Ma Dio non costringerà mai nessuno ad amarlo. Per tutte le eternità ciascuno andrà dove desidera andare. Rimarrà dove avrà posto il suo tesoro. Perché Ivi sarà pure il suo cuore, il suo corpo e la sua anima. Ci sono due specie di persone. Quelle che dicono a Dio, padre che la tua volontà sia fatta. E quella a cui Dio tristamente non potendono più finisce per col dire ebbene sia fatta la tua volontà. Ora e sempre. Uno si salva e l'altro volontariamente si danna. Infatti, fratelli miei, il cielo e l'inferno per noi sono già cominciati. Il cielo e l'inferno sono già presenti nelle vostre anime. Solo in esse lo saranno sempre. Chi non ha mai gioito qua giù per la bontà, l'amore, la presenza di Dio nella propria vita, non lo farà neppure in cielo. Dio, gli altri, l'amicizia, l'amore fedele e generoso saranno per lui senza senza, così in terra come in cielo. In verità non avremmo scelto validamente il vostro destino eterno se non avessimo avuto un presentimento fortemente accettato. Sì, nei nostri cuori ci sono gli slanci di pietà, di speranza, di fiducia, di tenerezza, nel fervore di una preghiera vera, nella gioia di un generoso spogliamento, nella pace di una bontà, già qualcosa del cielo. E quanto siamo a gustare. Così l'uomo si dona liberamente, eppure nell'eternità Dio concluderà la libertà dell'uomo. Già da questa terra, se Dio viene scelto dall'uomo e l'uomo con tutte le debolezze si sforza di essere unito a Dio, già è nella strada, già possiede un po' di paradiso in terra. Se l'altro rifiuta Dio e non vuole sentirne neppure parlare, già dentro di sé soffre una particella del inferno.